Buongiorno, sono il dottor Branchi dall'IRCA di Ancona. Mi trovo questa mattina in compagnia del dottor Antonini per partecipare a un impianto di protesi peniera. L'esperienza è stata veramente molto entusiasmante perché ho trovato una metodica veramente valida a livello sia cosmetico finale che dal punto di vista di praticità e soprattutto di essenzialità nella finalità dell'impianto della protesi peniera tricomponente. Ho avvalorato sempre di più in questo modo la mia esperienza pregressa di molti anni fa in cui erano i primi impianti di protesi peniera tricomponente, soprattutto attraverso l'impianto di via d'accesso penoscrotale e con questa infrapubblica ho trovato un miglioramento veramente importante nel posizionamento mini-invasivo dell'impianto tricomponente.